Buongiorno, 7.09, lunedì 15 aprile, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, come state? Crystal Radio sempre qui in diretta per voi, un nuovo lunedì, una nuova settimana da passare in vostra e nostra compagnia, anzi che noi passeremo in vostra compagnia, quindi grazie davvero ancora per essere qui con noi. Come state? Siete nel pieno della vostra allergia, come alcuni qui da noi? Oppure siete già con canottiere in giro per la città perché esploso il caldo, esploso tutto nella sua bellezza, nel suo sudore, benissimo, siamo felicissimi. 28 gradi ieri pomeriggio a un certo punto dava la macchina, quindi insomma davvero benissimo, siamo solo al 15 aprile, quindi attenzione ad avvassare la guardia perché poi dopo ci si ammala in un attimo, perché è un attimo che poi torni un po' di brutto tempo, anzi dicono che dovrebbe tornare un po' di brutto tempo nei prossimi giorni, quindi attenzione ancora a cantare troppo vittoria, ma sicuramente canteremo tanto questa mattina invece qui su Crystal Radio, qui a Good Morning Milano. 331-7853-555 è il numero di WhatsApp con cui potete parlare, raccontare, scriverci cosa avete fatto in questo weekend, cosa farete in questa settimana perché la settimana è arrivata, the week is coming. Ebbene sì, la design week, il salone del mobile, il fuori salone, tutto ha inizio, tra oggi e domani tutto avrà inizio e nulla sarà come prima, ma l'estate ha ancora da arrivare. Gioni Russo, un'estate al mare, perché molti di voi già pensano di essere al mare, vi ho visto, vi ho visto sto weekend in giro, vi ho visto con quelle maledette infradito in giro questo weekend, ah se fosse per me, se fosse per me, come ve li taglierai tutti quei pistolini lì che vanno in mezzo alle dita, perché la mettete su, vi tira dritto la ciabatta in un attimo, ah se c'è una roba proprio che non sopporto sono l'infradito, e ve lo dice uno che mette le crocs, quindi guardate che attenzione, non è un discorso di stile o non stile, beh in realtà non è vero ragazzi, allora iniziamo subito a definirci, allora abbiamo di fronte a noi una lunga estate che poi dopo so che cominciamo a litigare insieme, allora definiamo bene le cose, infradito non se ne parla, crocs ragazzi bisogna avere stile per portarle, bisogna avere stile perché poi ripieni il colore, si può andare sui colori forti, accesi, oppure si può andare sul grigio ma con oggetti attaccati sopra, cioè attenzione che ragazzi non stiamo qui a parlare di cose poche, comunque l'estate sta arrivando, così diceva qualcun altro, un'estate al mare no, perché attenzione che appunto questo weekend siete già proiettati, ma siamo solo al 15 aprile, attenzione fermi tutti, non andate troppo oltre, siamo solo al 15 aprile, anzi mi piacerebbe sapere quanti di voi hanno già fatto il cambio armadi, è occio perché dopo poi arriva il brutto tempo e vi ritrovate lì e dire non c'è più niente, c'è tutto in soffitta, c'è tutto in box, ho messo tutto sotto vuoto, nei sacchetti che avete succhiato con l'aspirapolvere e poi non c'avete cosa mettervi, quindi attenzione, 3317853555 è nostro modo di whatsapp e infatti anche Alberto ci scrive buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, weekend che ci ha regalato un anticipo di estate appunto trascorso tra Mericatini e Parchia, bello però, bello però, e in attesa del prossimo sabato per i Milano Non Profit Awards, bene sì perché sabato mattina al Teatro Guanella ci saranno i Milano Non Profit Awards, tutto fermo, cioè grandi preparativi fermono qui nella redazione di Milano News, con il mondo in Milano, Crystal Radio è media partner dell'evento, centinaia di associazioni saranno presenti appunto alla finale di Milano Non Profit Awards che sono quella roba che avete votato voi, perché siete stati voi nei mesi scorsi sul nostro sito internet a scegliere chi doveva finire nel trio delle nomination delle associazioni, enti, fondazioni, comunque enti del terzo settore, enti non profit meritevoli di un premio da parte appunto di Milano Non Profit Awards. Li avete scelti e a fine li avete anche votati, eh sì, noi sappiamo già chi ha vinto, lo sapete? Noi qui in redazione sappiamo già tutto, è già tutto pronto, devono ancora, non lo sa nessuno, non lo sa nessuno, non sappiamo solo noi qui in redazione, non lo sa neanche chi ha vinto, perché lo scoprirà, infatti lo scopriranno in diretta sabato mattina appunto al Teatro Guanella, poi ci sarà comunque la diretta su Milano News, Good Morning Milano, su Twitch, su YouTube, insomma potete seguirci in tutte le maniere e anzi grazie anche a Crystal Radio per essere media partner dell'evento, perché è sempre importante insomma ricordare come Milano fa tantissime cose e come il sociale a Milano e il terzo settore a Milano sono veramente un'eccellenza. Ahimè abbiamo anche un'altra eccellenza a Milano, ce l'abbiamo da tanto tempo e si chiama Traffico, siamo bravissimi, lo esportiamo in tutto il mondo, siamo bravissimi a crearlo anche quando non serve, siamo bravissimi a gestirlo male, quindi ecco, però per fortuna c'è qualcuno che ci può aiutare, questo qualcuno è Luce Verde. Ebbene sì, la fotografia del traffico su Milano e Città Metropolitana in diretta in questo istante della nostra città appunto, per capire bene come e cosa succede. Tutto questo grazie a Luce Verde. E questo era ogni toto con Africa alle 7 e 23 minuti qui su Cristian Radio. Good morning Milano, come state? Cosa state facendo? 331-78-535-555. È semplice il nostro numero di whatsapp, pensate ormai non lo leggo neanche più, lo so a memoria, ormai l'ho imparato a memoria anch'io, insomma lo dico tutti i giorni da due anni a questa parte, forse effettivamente era anche ora e anzi lo sapete anche voi perché infatti Nello ci scrive un whatsapp rispondendo alla domanda del ma che avete fatto sto weekend? Weekend bellissimo, trascorso in Lomellina al Festival all'ultima risaia. Pensate, devo fare qualcosa con il riso. Festival all'ultima risaia, dopo non lo guardo, non si è niente male. Comunque i canti umoristici delle mondine, bello come titolo. Poi ovviamente la comicità dei nostri ascoltatori arriva a vette inaudite quando chiudiamo il messaggio con Anche in Cina hanno tanto riso. Bene, potete chiudere. Grazie regia, possiamo andare a casa adesso con questa, possiamo chiudere qua, dai. Andata bene fino alle 7.23, poi è finito tutto. No, grazie Nello per il messaggio, grazie per la vostra compagnia e è molto interessante il Festival all'ultima risaia. Risotto, risottini. So che ormai capite che siamo in un momento storico in cui se mi parlate di riso io penso al sushi. Cioè ormai è quella roba lì, è interrata completamente, proprio in scivolata a pie pari nella nostra cultura. Ecco, poco da fare, se a Milano ormai pari di riso ti viene in mente una poche, non ti viene più il risotto con lo sbus, capito? Cioè quella roba lì ti viene in mente la poche, quindi bacche di goji e gli altri come si chiamano, gli edamame, quelli verdi, che non sanno di niente, però non sanno di niente ma te ne mangi un 200 uno dietro l'altro. E vabbè, questo è quanto. Comunque dicevo, la Design Week, salone del mobile, fuori salone, benvenuti a Milano alla settimana più assurda dell'anno. Ebbene sì, perché lo dico sempre, cioè la Fashion Week è una settimana da fuori di testa, ma questa le batte tutte. La settimana dove c'è il fuori salone, perché poi il fuori salone, il problema barra la cosa bella, dipende poi come lo vivete. Tant'è che infatti nuovi distretti anche per la Design Week a Milano, sì, nuovi distretti, le vie, i quartieri dove ci saranno gli eventi, parliamo di Chinatown, Castello Sforzesco, Università Cattolica e anche Varedo. Ve lo giuro, c'è scritto così su Corriere della Sera Milano. Allora, vi leggo il titolo di Corriere della Sera Milano e ditemi se non fa ridere. Milano Design Week, i nuovi distretti, Chinatown, Castello Sforzesco, Università Cattolica e Varedo. Così, così, è Varedo, pam, così, senza, non si capisce perché è il titolo. C'era spazio per spiegarlo, volendo, ma niente, non ho chiuso lì. Dal 15 al 21 aprile, oltre mille eventi in città, sei, 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 sedi diverse per la mostra evento di interni. Ebbene sì, l'articolo di Corriere inizia così, l'attesa è finita, come sembrava qua che non aspettavamo nient'altro. Comunque, vabbè, dal lunedì 15, appunto, da oggi, fino a domenica 21, torna la Design Week. La città è pronta, dice Paolo Casati, direttore creativo del Forisalone.it e di Brera Design District. Le premesse sono ottime, con un 20% in più di eventi rispetto al 2023, quando, vi ricordate che tutti quanti piangevamo perché c'erano pochissimi, eh? Ah, mi ricordo benissimo, che nel 2023 diciamo, ma se ci fosse almeno un 20% in più di eventi, saremmo tutti più contenti. Ebbene, eccoli qua, sono arrivati. Ragazzi, amiamoci di santa pazienza, ma anzi, vi dico una cosa, godete questo salone, perché è veramente divertente comunque il Forisalone. Quindi godetevi le serate in giro per Milano, godetevi, divertitevi, anzi, ragazze, lo dico a voi, andate e divertitevi ancora di più. Perché ragazze? Eh beh, perché si indirlo, perché ce lo dice. Girls just want to have fun. Bon Marley Cool Tube Loved, 7 e 35 minuti, lunedì 15 aprile, eh, che sound. Già, poi, voi pensate di essere in estate. Io vi metto tutta sta roba e già vi vedo. Altro che infradito, vi vedo già in canotta, con gli asciugamani, così, alla fermata del 15, e prendete il sole, cose del genere. Attenzione, attenzione, attenzione. Poi com'è che è la storia che non si prende il sole nei mesi con la R? Eh, quindi aprile ce l'ha, attenzione. Non lo sapete questa cosa qua? Sì, si dice che faccia male prendere il sole nei mesi con la R. Boh, così. Effettivamente, sono i primi mesi dell'anno quando i raggi UV sono tangenti, queste cose qua. C'è un fondamento di verità, nonostante la castroneria detta con la R, cioè, nel senso, non è quello la motivazione, ma, i primi mesi dell'anno e gli ultimi mesi dell'anno, diciamo, quando esce il sole, sono quelli più pericolosi per via dei raggi UV. Andate a cercarvi perché, non sono uno scienziato, non ve lo so dire, ma sono sicuro che comunque è così. E invece, abbiamo parlato della Design Week, abbiamo parlato appunto che ci sarà, cioè, anzi, inizia questa settimana di delirio, e infatti, ne ho leggere da Milano Today, blocco del traffico per il fuori salone, le strade che chiudono da lunedì a Milano, nel senso che appunto attenzione, come sempre i titoli di Milano Today un po' particolari, non c'è nessun blocco del traffico generale, ma ci sono delle zone che verranno chiuse al traffico per tutta la settimana. Da lunedì alcune strade saranno chiuse al traffico e la misura potrebbe diventare anche permanente, a meno così, giusto per mettere un po' di tizzagni e soprattutto fare un po' di clickbaiting, ma attenzione, perché è largo agli eventi, dice Milano Today, da lunedì appunto 15 aprile, quindi da oggi Milano affronterà una sorta di blocco del traffico per permettere lo svolgimento di tutti gli appuntamenti collegati al salone del mobile e al fuori salone. I distretti ve l'abbiamo detto poco fa, attenzione però che ad esempio via Solferino, che immagino che tutti quanti, tutti i giorni andiamo in via Solferino con la macchina, tutti quanti, comunque via Solferino ad esempio sarà chiusa, ma soprattutto ci saranno anche numerose strade chiuse in zona Tortona e poi anche ad esempio via Bergognone, piazza delle Minizze, via Forcella, via Voghera, via Savona, via Montevideo, via Solari, via Bugatti, tantissimi, tantissimi sono chiusi, via delle Foppette, via Ventimiglia, Largo delle Culture, la piazzata della zona di Porta Genova, Lato Ferrovia, quindi insomma, ci saranno veramente tantissime di zone chiuse, quindi state attenti, fatevi una lettura sul sito di Milano Today, ci è segnato tutto, fatevi una lettura perché davvero vi spiegano tutte le vie chiuse, praticamente così il delirio, fino a domenica, più o meno sì, più o meno è quello che succederà da qua a domenica, mi raccomando, amate di santa pazienza e magari date un'occhiata appunto ai vari siti o mandate in perlustrazione amici con la bicicletta per capire quali sono le strade che si possono o non si possono fare in questa settimana a Milano. Attenzione, benvenuto fuori salone, benvenuto! Ermal Meta, l'unico, l'unico pericolo e non so se è un pericolo oppure invece auspicabile quello che vi stavo dicendo prima, abbiamo delle vie e delle strade che saranno chiuse per il fuori salone ma in qualche, leggiamo sempre dall'articolo di Milano Today, leggiamo che appunto stando a quanto aveva annunciato il sindaco Beppe Sala in una diretta Instagram la scorsa settimana questi provvedimenti alcuni potrebbero anche diventare esecutivi per sempre ad esempio come già accaduto con Via Durini in passato con delle strade che diventerebbero una sorta di ZTL il sindaco cosa aveva detto? La mobilità aveva detto appunto la mobilità è uno dei problemi della settimana del fuori salone consiglio quindi di lasciare a casa l'auto ma bene ricordate questa cosa qua che aveva detto oppure permettevi il traffico ma il tema può essere utile anche per fare esperienza nel 2023 abbiamo chiuso Via Durini la chiusura era legata anche a dei lavori in corso ma il municipio 1 ha deciso di renderla permanente ad esempio qualcosa che è pensato per la Design Week può quindi dunque diventare permanente volendo ad esempio ok quest'anno aveva annunciato appunto ripeteremo l'idea in altre realtà non so se poi saranno chiuse permanentemente queste strade ma sarà l'occasione per sperimentare la possibilità di cambiare il modo di vivere le nostre strade allora devo dire che qui mi trova d'accordo il caro sindaco perché ci sono delle vie che effettivamente sono rinate nel momento in cui sono state chiuse al traffico delle zone che sono rinate guardate io porto sempre un esempio perché me lo ricordo ero poco più che ragazzino però iniziavo già ad affacciarmi ai problemi della città e c'era la questione Corso Como Corso Como che so che in questo momento ad esempio che il regia mi guarderà con gli occhi sbarrati Corso Como che era una via come tante altre in cui passavano macchine avanti e indietro tutto il giorno anzi era anche abbastanza trafficata perché attaccava quella parte di città interna a quella parte di città esterna che passava appunto da Garibaldi e anzi all'epoca dall'ex Varesine da Luna Park e tutto bene quando è stato deciso quando è stato deciso di chiuderla alla traffico chiunque era lì è salito sulle barricate ecco i negozianti che c'erano hanno incominciato a dire che sarebbe tutto male sarebbero chiuso dopodiché adesso io vorrei parlare con chi ha adesso invece i negozi in Corso Como vorrei capire se guardi pensavamo di riaprire il traffico vorrei vedere che cosa dice vero è che c'è un cambio quello sicuramente ma attenzione non è dovuto al primo chiudere le vie allora se noi chiudiamo le vie e decidiamo che tutte le vie chiuse sono delle vie ristorante allora quello è l'errore ok ma se c'è una ferramenta nella via che chiudiamo e facciamo di tutto perché quella ferramenta rimanga nella via che chiudiamo allora ha un senso occhio attenzione che non bisogna poi fare quel processo famosissimo lo conosciamo benissimo della gentrificazione per cui quando un posto viene riqualificato chi quel posto l'ha vissuto da sempre e soprattutto l'ha vissuto magari del disagio e magari ha fatto quel pochino possibile per renderlo un po' meno disagiato quel posto venga preso e cacciato via ecco questo è il problema non è chiudere o non chiudere al traffico una strada chiudiamole più possibili rendiamo la mobilità pedonale fondamentale in questa città perché attenzione quasi tutti possiamo camminare in città sono veramente pochi quelli che non possono per cui poi bisogna creare dei percorsi creare delle situazioni in cui il trasporto pubblico oppure appunto delle auto se possono accompagnare debbono poter passare ma attenzione che quasi tutti possiamo girare tranquillamente la città a piedi godercela e soprattutto far godere ancora di più certi luoghi che per adesso sono solamente delle vie e dopo potrebbero diventare dei luoghi da vivere These Days quei giorni lì eh sì Mekalmore The Rudimental e tanta altra gente una marea sono se vi leggo tutti gli artisti che c'è nella canzone ci metto un quarto d'ora dobbiamo chiudere la trasmissione prima che finisco l'elenco comunque oggi è lunedì eh sì lunedì 15 aprile lunedì lunedì 15 aprile il 15 per molti è giorno di paga ad esempio ci sono quelli che hanno la paga a metà mese ci hanno il 15 invece del 27 sì comunque è lunedì è metà mese per cos'altro posso dirvi niente che penso che nella storia ci sia stata della Pasqua accaduta anche il 15 di aprile così nella storia mi ricordo comunque sta di fatto che oggi è lunedì questo volevo dirvi per lavoro di lavoro perché appunto può essere anche giorno di paga ma soprattutto perché vi parlo di lavoro perché Filippo Poletti lunedì ci dà delle notizie anzi ci dà il buon lavoro ci augura un buon lavoro con le buone notizie sul lavoro ok ci racconta in poche parole come il lavoro può anche essere una cosa bella ve lo assicuro ve lo dice uno che fa lavoro bellissimo quindi può succedere ma non solo quando il lavoro è bello ma anche quando magari le aziende stanno da fare per rendere migliori i posti di lavoro ce lo racconta sempre con tre parole tutti lunedì Filippo Poletti top voice di LinkedIn che tutti i giorni su LinkedIn racconta di lavoro ma lunedì ci fa questo bellissimo regalo e ci dà delle notizie che insomma possono anche farci da ci possono far svoltare un po' la giornata nel senso che ci possono anche dare della speranza per un mondo lavorativo migliore e allora andiamo a ascoltare appunto Filippo Poletti con il buon lavoro di oggi di oggi lunedì 15 aprile Filippo 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 ascoli buon lavoro a te buon lavoro Filippo buon lavoro a tutti la prima parola chiave della settimana è caring ossia prendersi cura un mese aggiuntivo di maternità retribuita al 100% e un mese di congedo retribuito sempre al 100% per tutti i neopapà è l'welfare rafforzato di A2A con il progetto Life Caring interessante è che il contributo annuale di 3.250 euro per i primi tre anni di vita del bambino così come il contributo alle spese sostenute per l'istruzione dei figli benvenga appunto il caring la seconda parola chiave della settimana è premio extra un mese di ferie extra a tutti i collaboratori della e di l'eco non esiste nulla di più prezioso del tempo è quello che ha spiegato il presidente Davide Trapani della cooperativa specializzata in ristrutturazioni eco compatibili con 150 dipendenti e sede ANUS a due passi da Aosta bella iniziativa per gratificare tutti i collaboratori con un bene molto molto prezioso qual è appunto il tempo libero la terza e ultima parola chiave della settimana è sorriso lo insegnano i bambini lo dice Carlo Bellieni pediatra dell'università di Siena se all'inizio della vita il neonato ride per imitare la mamma a quattro anni lo fa perché si stupisce del mondo e a partire da dieci anni diventa il modo per immedesimarsi negli altri il riso come il pianto è uno dei fenomeni ritmici che il nostro organismo usa per aumentare il benessere spiega il professor Bellieni e allora guardiamo i bambini e impariamo appunto da loro buon lavoro a tutti e visto che inizia a Milano il salone del mobile buon salone a tutti Rolling Stone Star Me Up il Crystal History delle 8 ben ritrovati ben ritrovati su Crystal Radio alla nuova puntata di oggi di lunedì 15 aprile di Good Morning Milano ben ritrovati 331 78 535 555 il nostro numero di Whatsapp a cui potete scrivere l'abbiamo detto settimana complicata quella che arriverà soprattutto dal punto di vista viabilistico per via del fuorisalone ma non è che è stata meglio la scorsa settimana nello scorso venerdì soprattutto vi ricordate la scorsa settimana sono arrivati i ministri degli esteri no scusate dei trasporti degli 7 dei G7 tra cui diciamo anche noi grande riunione a Milano hanno fatto già anche un giro in trama a un certo punto per concludere la giornata venerdì quindi grande misura di sicurezza tanto che torniamo in Piazza del Duomo e leggiamo da Repubblica Milano Museo del Novecento chiuso per il G7 dei trasporti la rabbia di artisti e operatori della Milano Art Week ebbene sì perché erano anche i giorni della Milano Art Week e durante la Milano Art Week cosa fanno? pensano bene di chiudere per motivi di sicurezza l'aringario del Museo del Novecento benissimo come sempre le cose fatte bene tra parentesi tutti hanno fatto notare il paradosso di quello che stava succedendo in città l'ho fatto notare anche appunto Repubblica Milano dalle sue colonne dicendo il paradosso è che per il G7 sulla mobilità non ci si muova più in Piazza Duomo sì motivi di sicurezza il prefetto era in qualche modo obbligato a blindare l'area attorno a Palazzo Reale dove si tiene appunto il vertice ma questo ha quindi comportato la chiusura fino al giorno dopo non solo della sede del Summit ma anche del Museo del Novecento uno dei luoghi che in quei giorni ospitava oltretutto la Milano Art Week manifestazione di arti diffuse in giro per la città sappiamo oltretutto anche poi il delirio del traffio che c'è stato alcune linee chiuse la metropolitana chiusa quindi il paradosso qual è? che tu crei e su cui la cosa che mi coinvolge è che nessuno faccia un ragionamento è quello che mi fa ridere cioè tu crei un Summit sulla mobilità e questo Summit sulla mobilità va a creare dei disagi sulla mobilità loro arrivano immagino con le macchine a quel punto perché ovviamente non è che possono prendere la metropolitana e arrivare a impazzare il Duomo con la metropolitana giusto ci arriviamo a capire che è normale che sia così ma capite che c'è un problema allora se il Summit della mobilità va fatto così fatelo in un casolare in mezzo alla campagna e basta cioè fate così e mettete come primo ordine del giorno trovare il modo per cui noi politici si possa ritornare a viaggiare tranquillamente nelle città e fare le cose nelle città perché anche quello c'è da dire insomma è stato veramente paradossale quello che è successo settimana scorsa con il Summit del punto G7 dei Ministri dei Trasporti tra parentesi non c'è un giornale che dica cosa è successo quindi cosa avete fatto cioè ne è uscito una piattaforma condivisa ne è uscito qualcosa avete fatto solo quattro giorni di vacanza cosa avete fatto cioè non c'è un giornale che parli di questo si parla solo ed esclusivamente ovviamente dei disagi arrecati alla città e tutto è caduto così ma si è successo va bene chi se ne frega la cosa ripeto che a me sconvolge è il fatto che nessuno ripensi al fatto che ogni volta che si faccia un Summit ogni volta che si faccia una cosa del genere questo comporta un distaccamento dalla città dalla popolazione dei cittadini altissimo oramai non c'è Summit non c'è punto non c'è momento di incontro zero cioè viene tutto blindato tutto staccato io non so quale sarà la soluzione a questo ma sta di fatto che così sicuramente non si fa il bene né della politica né delle decisioni che vanno prese per poi i cittadini quindi troviamo una soluzione Lewis Capaldi forget me e invece non forget che cosa non dovete dimenticare che cosa non dovete dimenticare che sta per entrare in vigore un nuovo codice della strada o meglio c'è una proposta di codice della strada il cosiddetto codice Salvini che è subito stato ribattezzato da molti il codice della strage invece che della strada perché perché ci sono insomma delle normative che insomma non piacciono molto a tanti comitati e tante persone che cosa hanno fatto nello scorso weekend si sono ritrovate anche in piazza leggiamo da Repubblica Milano Corso Venezia la protesta in bici contro Salvini e il nuovo codice della strada le nostre città devono essere spazi per la vita non dove aver paura di morire questo appunto è quello che la via è stata divisa la via proprio un corso di Porta Venezia è stato diviso scusate Corso Venezia è stato diviso tra luogo triste e luogo della gioia per la manifestazione appunto contro quello che è stato ribattezzato codice della strada pattini biciclette palloni scacchi in mille più o meno hanno partecipato a quella sorta di contro G7 appunto organizzato in comunità con il G7 dei trasporti voluto dal ministro Matteo Salvini a Milano appunto questo weekend venerdì venerdì scorso in Corso Venezia nonostante una calura già estiva hanno scusate sabato sabato è successo in Corso Venezia nonostante appunto una calura già estiva hanno giocato e pedalato per due ore con bambini per mano cari al guinzaglio manubri incrociati e la voglia di stare assieme di spiegare i mille motivi di opposizione al nuovo codice della strada che è in discussione al Parlamento questo è quello che appunto è successo sabato lungo Corso Venezia lo spazio della manifestazione è stato diviso in due parti il luogo triste che è un'installazione composta da 3153 piccole croci che rappresentano appunto le 3153 persone che nel 2023 sono morte sulle strade italiane dall'altra parte della strada invece lo spazio del luogo della gioia le persone sono state invece quindi libere di muoversi in bici o a piedi giocare svolgere qualsiasi attività per dimostrare che un'altra strada è possibile questo è stato quello che è successo sabato in Corso Venezia c'è tutto un lungo articolo su Repubblica che vi racconta tutto presenti c'erano Pier Francesco Maiorino capo dell'opposizione in regione Carlo Monguzzi consigliere comunale ed ecologista e poi in rappresentanza della giunta sala c'era anche l'assessore Lamberto Bertolè che ha detto che questo codice di discussione limita l'autonomia dei comuni sulle ZTL sulle regolamentazioni della sosta e controllo attraverso gli autovelox delle zone 30 e quindi non tutela la sicurezza stradale è una battaglia che molti comuni e associazioni stanno portando avanti insieme perché non erano solo i comitati ambientalisti o gli alternativi contrari alle leggi dello Stato no c'era anche il comune al fianco a queste proteste tanti sono i comuni in Italia che stanno appunto mettendo in scena proteste per via di questo codice della strada che non viene digerito e che dicono insomma ci sono tantissimi motivi per cui bisognerebbe rivederlo tra questi da remoto ma con totale condivisione degli obiettivi così è stato definito ha partecipato anche l'assessore alla sicurezza Marco Granelli che non è andato di presenza sappiamo che molto probabilmente alcuni comitati con l'assessore Granelli l'assessore Censi l'assessore Mobilità insomma non sono molto affini e quindi sappiamo ricordiamo ad esempio la questione della ciclabile sul ponte della Grisolfa che insomma va avanti da anni e ancora non si vede una soluzione quindi insomma ci sono un po' di attriti all'interno di un comune che fa manifestazioni del genere e ben venga che le faccia ma dall'altra parte non sembra spesso e volentieri molto dalla parte della mobilità dolce o dell'alternativa mobilità alternativa o del pensare a una mobilità diversa da quella delle auto nella nostra città Coldplay Adventure of Love Time ebbene sì alle 8 e 22 minuti di nuovo qui in diretta e andiamo a leggere da Repubblica Milano una notizia che come al solito la notizia è interessante però ma il titolo mi lascia sempre far cioè è possibile che non c'è un titolo di giornale che non finisca che mi faccia delle domande ma come è possibile dove trovo degli paradossi dentro al titolo allora titolo a Milano si sgonfia l'effetto smart working perfetto e si torna a viaggiare in metropolitana più 8% sul 2023 picco nel weekend non c'è lo smart working allora però cioè nel weekend non c'è solo quelli che vanno a lavorare credo sono i turisti quindi sarà piccolo nel weekend grazie ai turisti capisco comunque ATM recuperato passeggeri questa è la notizia quindi magari ci riportano il biglietto a 2 euro adesso dubito comunque la differenza sul 2019 ormai è sotto il 15% che è molto probabilmente una soglia importantissima di cui non sappiamo l'esistenza comunque in crescita anche l'utilizzo dei parcheggi di interscambio con un terzo del totale che va a fama agosta cioè un terzo di quelli che usano i parcheggi vanno a fama agosta però non è male comunque dunque quindi si riduce appunto la forbice con l'anno del pre-covid anche se non ancora abbastanza da portare il numero dei passeggeri di metro autobus e trama agli stessi livelli appunto del 2019 i numeri di quest'anno comunque segnano una risalita che progressivamente si è affermata dal 2020 in avanti quando i pendolari dei mezzi di trasporto milanesi erano scesi di quasi un quarto oggi secondo i dati ATM il calo dei viaggiatori di metro e mezzi superficie oscilla tra il 10 il 15% o qualcosa meno rispetto appunto al 2019 e nella fine settimana la normalità del pre-pandemia è quasi tornata nel weekend appunto si registrano numerosi numeri si registrano scusate numeri di passeggeri inferiori rispetto ai giorni infrastrimanali ma il sabato e la domenica hanno comunque subito un calo inferiore rispetto ai spostamenti sui mezzi pubblici del 2019 cioè sabato e domenica c'è in giro meno gente rispetto alla settimana normale ma quella meno gente che c'è in giro sabato e domenica è comunque un numero abbastanza alto e quasi simile alla stessa gente che andava in giro nei weekend pre-pandemia quindi insomma nel weekend si sente sempre meno l'effetto pandemia quindi sempre di più stiamo ritornando alla nuova normalità la famosa new normality che ogni tanto si sente dire quindi dal 2023 i treni sui treni del metro nel 2023 pensate hanno viaggiato 331,3 milioni di persone non singole nel senso anche gente che va su più volte viene contata più volte comunque nell'anno diciamo 331 milioni di passeggeri sui le metro invece autobus tram e filobus sono saliti oltre i 364 milioni di passeggeri pensate che nel 2022 le metro che adesso sono a 331 mila 331 milioni scusate non si capisce niente ma perché non mettono si 331 milioni di viaggi ce ne erano stati nel 2022 invece 228 ma insomma dai non male non male comunque sembrerebbe appunto che ritorna tutto nella normalità la linea del metro più battuta per quanto riguarda gli ingressi rimane a linea rossa che conta pensate il 35% degli spostamenti in metropolitana quindi il 35% di colori che usano la metropolitana usano la rossa e gli altri 65% si divide nelle altre quattro linee insomma non male non male non male sta di fatto che questi sono i risultati e la rossa ovviamente è quella che va verso il 100 quindi insomma ci sta la regina del celebrità 883 me ne si chi è il king invece dei morning show buongiorno eccomi qua l'imperatore dei morning show miseria e lo dicono i giornali e lo dico io ah no no lo dicete sui giornali le scritto così no scherzo anzi non sono il solo a portare avanti questo regno qui a Cristal Radio perché siamo in tanti tantissimi e anzi dopo di noi lo sapete benissimo c'è Ambrogio Curti che ci farà sentire che cosa che cosa ci porterà oggi nel menù della settimana Ambrogio Curti e che cosa perché poi la cosa bella devi ascoltare senti questa con Ambrogio Curti che dopo voi ascoltate le cose poi ve le rivendete al bar con i vostri amici cioè quello capito fate quelli che ne sanno e invece è tutta farina del sacco di Ambrogio Curti però voi rubate a man bassa capito perché questa si chiama divulgazione quindi dopo diventate delle persone migliori dopo aver ascoltato senti questa che cosa sentiremo questa settimana che cosa sentiremo tutti i giorni alle 9.05 dopo Good Morning Milano in senti questa ma è semplicissimo basta chiederlo direttamente ad Ambrogio Curti e quindi Ambrogio dicci un po' di che cosa ci parlerai questa settimana a senti questa e grazie mille Ambrogio Curti che alle 9.05 troverete qui sempre su Cristal Radio con senti questa tutti i giorni dal lunedì al venerdì tutto l'anno è pazzesco non ne salta una è sempre di pronto a raccontarci un po' di tutto auguri a Barbarossa pensate oggi fra gli anni lui comunque vedete poi ci dà anche delle nozioni che oggi tranquillamente possiamo andarci a rivendere a raccontare ai nostri amici quindi davvero grazie mille Ambrogio ascoltatelo dopo di noi appunto alle 9.05 qui su Cristal Radio con senti questa e questi sono i Bee Gees con Nights on Broadway le vostre notti a Broadway per adesso però non siamo ancora a Broadway anzi non siamo ancora la notte a Broadway soprattutto il sole è alto ancora nella nostra città il caldo oggi ci fa sentire ma non dovete preoccuparvi anzi cercate di rilassarvi finché è possibile finché appunto questo tempo che magari ci stona un po' l'allergia da una parte il cambio di stagione dall'altra insomma non è proprio facilissimo rimanere connessi ma allora mi raccomando cercate di non preoccuparvi è quello fondamentale anzi cercate di non preoccuparvi ed essere felici un po' un concetto molto lontano no lo diceva anche Bobby McFerrin diceva don't worry be happy e fischiettatele insieme a noi don't worry be happy Bobby McFerrin don't worry be happy e al 3317853555 arrivano anche consigli musicali proprio da Ambrogio che ci scrive ciao Fabio consiglio l'ascolto di musica sudamericana per rendere l'animo sereno Ambrogio effettivamente quel sound la mattina potrebbe aiutare per rendere l'animo più sereno e gestire questo cambio di stagione che so che sta insomma scombussolando molti faceva freddo poi faceva caldo e poi ha piovuto per una settimana e poi adesso c'è il sole un weekend estivo che ci portiamo dietro nella visione di un lunedì che è più lunedì del solito forse perché poi quando passi un weekend così di sole insomma musica sudamericana consiglio Ambrogio io invece vado nel British nel Britpop 8 e 55 minuti di oggi lunedì 15 aprile è arrivata la fine questa puntata di Good Morning Milano ebbene sì è iniziata una settimana l'abbiamo fatta in vostra compagnia e adesso è tutta la settimana rimaniamo qua è tutta la mattina delle 7 alle 9 con Good Morning Milano le notizie le curiosità tanti ospiti nelle prossime puntate abbiamo già un lungo e pregno calendario di ospiti questa settimana settimana che poi vedrà il culmine sabato con il Milano Non Profit Awards dopo di noi Ambrogio Curti con Senti Questa il sommario l'abbiamo ascoltato abbiamo sentito abbiamo sentito questa quella l'abbiamo sentita quell'altra l'abbiamo sentita insomma sentiamo un po' cosa ci farà sentire invece quest'oggi Ambrogio Curti alle 9 e 05 con Senti Questa grazie ancora a tutti per averci ascoltato questa mattina grazie anche a chi ha collaborato con noi in redazione Lisa grazie mille alla nostra producer che tutti i giorni insomma ci dà una grande mano per portare a casa il risultato e signori che risultato e allora noi ci sentiamo domani grazie mille davvero a tutti ricordatevi goodmorning.milano.it il nostro sito dovete riascoltare e rivedere tutto quello che succede qui ogni mattina dalle 7 alle 9 su Crystal Radio ciao a domani e buona giornata ciao grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie.